Quando fai la spesa, prova a ragionare, scriviti un elenco delle cose da comprare. Non comprati tutto, usa il tuo cervello, guarda attentamente cosa metti nel caderno. Non comprati tutto, usa il tuo cervello, guarda attentamente cosa metti nel caderno. Non comprati tutto, usa il tuo cervello, guarda attentamente cosa metti nel caderno. Non comprati tutto, usa il tuo cervello, guarda attentamente cosa metti nel caderno. Non comprati tutto, usa il tuo cervello, guarda attentamente cosa metti nel caderno.